Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Partiamo con l'A15 dove si registrano 6 km di coda a causa del traffico intenso tra Ulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione dell'allacciamento con l'A12. Costandoci sulla 1 invece i code a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e in Cisare Gello in direzione Roma. Codi a tratti invece a causa del traffico intenso tra il bivio con la variante del Valico ed Aglio e tra Ronco Bilace e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Codi a tratti anche tra il bivio A1 Firenze Nord e il bivio con la variante per traffico intenso in direzione Bologna. Uno sguardo alla statale Aurelia dove a causa del traffico vacanziero si registrano rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A12 e Donoratico in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!